Buongiorno a tutti, una domanda sola al Direttore Generale, visto l'organizzazione e i nuovi posti, letto, oncologia, che fine farà l'oncoematologia? Abbiamo avuto rassicurazioni, la Giunta Chiamparino aveva zerato di fatto questo importante servizio, per cui negli anni precedenti ci eravamo spesso battuti. I bravi oncoematologi erano ormai annacquati nei reparti di medicina, abbiamo delle professionalità importanti, a partire da Fabio Ardizzone, che è un medico che non ha bisogno certo di presentazioni, sono persone e valori che vanno assolutamente tutelati. Sono stato contento della risposta e quindi sono sicuro che con questa riorganizzazione, sia l'oncologia che l'oncoematologia, nei prossimi mesi avranno una spinta in più.